Tra i tanti compiti della Polizia Locale di Legnano c'è anche quello di andare a recuperare le vetture abbandonate in giro per la città. Nel corso del 2019 sono stati 62 i veicoli recuperati a fronte di 64 segnalazioni. Il fenomeno sta migliorando. L'anno precedente le segnalazioni erano state oltre 80 e i veicoli recuperati 74. Si tratta di auto che sono state abbandonate soprattutto da stranieri che a un certo punto decidono di lasciare l'Italia per tornare a casa oppure da persone che alla fine non hanno più soldi per mantenere l'assicurazione e il veicolo messi in condizioni tali per cui conviene lasciarlo per strada piuttosto che pagare le spese di demolizione. Grazie a un accordo che il Comune ha fatto con i recuperatori, neanche il Comune però paga le spese di demolizione di questi veicoli che sono smaltiti a costo zero.